Le prime notizie di lunedì 8 aprile. Due giovani carabinieri pugliesi sono morti sabato notte in un incidente che ha coinvolto una gazzella dell'arma e altre due auto tra Eboli e Campagna nel Salernitano. Si tratta del maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, originario di Manfredonia e dell'appuntato scelto Domenico Ferraro, 27 anni, di Montesano Salentino che due anni fa aveva svolto il tirocinio pratico presso la caserma di San Pietro Vernotico, quattro i feriti, tra cui un terzo carabiniere che era alla guida dell'auto, anche lui pugliese, il maresciallo Paolo Volpe, 29 anni, di Terlizzi, in provincia di Bari. E nella notte tra venerdì e sabato un giovane chef di Adelfia, in provincia di Bari, Gianluca Fianello, di 30 anni, è morto perdendo il controllo della sua moto e finendo contro un muro sulla provinciale Ceglie del Campo, Adelfia. Un cinquantenne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Tricase dopo essere caduto con la bicicletta e aver sbattuto violentemente la testa per evitare di travolgere la figlia di 11 anni che lo precedeva ed era caduta e successo ieri nelle campagne di Santa Maria di Leuca. Un uomo di 42 anni è stato ferito con due colpi di pistola alle gambe sabato mattina davanti a un bar alla periferia di San Severo, a sparare una persona fuggita a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Il ferimento potrebbe essere la vendetta per una lite tra donne in ambito familiare. Ancora un bancomat assaltato con l'esplosivo, questa volta presso la filiale della banca di credito cooperativo di Rignano Garganico, nel Foggiano, i banditi sono fuggiti con 20.000 euro. Stalking, minacce e offese dopo la fine della relazione. A Racale, in provincia di Lecce, un uomo è stato arrestato dai carabinieri e rinchiuso in carcere per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Panetti di droga e telefonini introdotti nel carcere di Foggia con un drone sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nella cella di un detenuto. Il velivolo teleguidato aveva superato il muro di cinta senza essere avvistato. Un uomo è rimasto intossicato e cinque famiglie sono state evacuate in una palazzina Vittorio Veneto a Nardò per i fumi sprigionati dall'incendio di un box. I vigili del fuoco hanno messo in salvo un cane. Lo stabile, a cinque piani, è stato dichiarato inagibile. E una barca è stata distrutta da un incendio all'interno di un'auto rimessa a Gallipoli nel pomeriggio di sabato. Si indaga sulle cause del rogo. A poco meno di tre mesi dalla frana che ha interrotto i collegamenti, riapre oggi la linea ferroviaria Foggia-Benevento, ripristinata in mese in sicurezza la galleria Starza. Proprio da oggi però sarà sospesa la linea ferroviaria adriatica tra San Severo e Lanciano per lavori che termineranno il 19 aprile. Nel weekend comunque la tratta sarà aperta per i treni a lunga percorrenza. Brindisi si candida a Capitale Italiana della Cultura 2027. Lo ha annunciato a Palazzo Nervegna il sindaco Giuseppe Marchionna. Lega Basket, l'epicasa Brindisi mantiene viva la speranza della salvezza, superando al pallapentassuglia per 93-75 Treviso con 25 punti di Bartley e 19 di Sneed. Intanto nel calcio in Lega Pro è da ieri matematica la retrocessione del Brindisi che dopo una sola stagione torna in Serie D. Meteo sulla Puglia, giornata di sole segnata da qualche nuvola di passaggio con temperature massime intorno ai 25 gradi. I venti in mattinata ruoteranno da Scirocco. Calmo dunque il mare adriatico, da poco mosso a mosso lo Ionio. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.